Sentenza ribaltata in appello sulla cessione di quote dell'ex zuccherificio. Condannati a sei mesi l'ex presidente Michele Iorio e l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaliano. Tra l'altro per loro anche l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. L'ex presidente dell'Aggiunta regionale Michele Iorio è stato condannato a sei mesi, pena sospesa e non menzione, per abuso d'ufficio dai giudici della Corte d'Appello di Campobasso che hanno ribaltato il verdetto di assoluzione da parte del Tribunale emesso il 20 ottobre 2016. La decisione che coinvolge anche l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaliano, condannato alla stessa pena, riguarda il passaggio di quote societarie dell'ex zuccherificio del Molise. Secondo l'accusa Iorio e Vitaliano non avrebbero esercitato il diritto di prelazione della regione Molise nella cessione delle quote tra gli imprenditori luigitesi e Remo Perna, causando dunque un vantaggio alla società dello stesso Remo Perna. Una trattativa che all'epoca dei fatti si sarebbe aggirata intorno ai 2 milioni e mezzo di euro per un pacchetto azionario pari al 37,7%. Sia per l'ex presidente dell'Aggiunta regionale che per l'ex assessore è scattata anche l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La sendenza in corte d'appello produrrà come effetto immediato la decadenza da consigliere regionale di Michele Iorio, al quale subentrerà Nico Romagnuolo. È la seconda volta che in questa legislatura accade, e sempre come protagonista, l'ex presidente dell'Aggiunta regionale, ma per altra condanna, poi annullata in Cassazione. A seguito della condanna in appello, Michele Iorio non potrà candidarsi per le regionali, mentre diventerebbe solo una questione morale l'eventuale candidatura alle elezioni politiche.